buona giornata per molti studenti è un periodo di inizio scuola un altro anno scolastico un altro diciamo così occasione è vero di fatica un'altra occasione di apprendimento un'altra occasione nel compiere il proprio dovere un'altra occasione di formazione quanto e come nella modalità con cui faccio bene il mio dovere mi forma e poi ragazzi mi troverò tutto dopo tutto dopo nelle scelte nella modalità con cui vivi anche i legami con chi avrai a che fare nel tuo lavoro allora è un partire è un dire bene di te è un dire che il signore vuole gente in gamba il signore vuole gente che compia le proprio il proprio dovere in questa maniera qua perché perché sicuramente fa bene a tutti allora buon anno scolastico e che signore ti illumini e ti protegga buona giornata